Aggiornamento di Sheldani del per la gerarchia spirituale e la federazione galattica. 6 luglio 2010. Selamatierin. Torniamo a voi per parlare di altri argomenti. Le due principali forze che hanno lottato una contro l'altra sono ora al momento decisivo. I nostri alleati terrestri hanno ostacolato i recenti tentativi messi in atto dagli oscuri per scongiurare la loro sconfitta, queste diverse strategie a favore della luce sono ora vicine al successo finale. Gli oscuri continuano a tentare ogni opzione possibile per mantenere aperta la partita, ma noi sappiamo in modo chiaro, che quello che manca è solo il colpo finale. I nostri alleati terrestri sono ora pronti ad sostenere le persone, che si occuperanno del potere governativo, e un susseguirsi di eventi spingerà la vostra realtà verso le trasformazioni, che introdurranno gli annunzi e le modalità del nostro arrivo sulle vostre spiagge. Sappiate che buona parte di ciò che avevamo previsto è stato ritardato dalla persistente intransigenza dei servi degli oscuri. Presto la potenza della cabala oscura sarà resa innocua e tutti i programmi, che in altre occasioni vi sono stati descritti, diventeranno operativi. Madre Terra ha bisogno di essere liberata dal peso di dover rinunciare ai tantissimi milioni di barili di greggio, che vengono estratti senza sosta dalle compagnie degli oscuri, ma nel contempo vuole assicurarsi che la vostra crisi energetica trovi una giusta soluzione attraverso nuove valutazioni e l'utilizzo di tecnologie alternative. La fuoriuscita di petrolio si ripercuote sulla stabilità delle placche terrestri, che a loro volta renderanno necessaria la riconfigurazione di alcune di queste zone di superficie. Quando il vostro pianeta ha assunto la conformazione, che conoscete da millenni, ha anche subito compreso quanto instabile poteva essere la condizione in cui si trovava. Importanti terremoti, eruzioni vulcaniche, e il cedimento improvviso di grandi masse sotto le onde dei vostri tre importanti oceani, hanno ciclicamente modificato il pianeta in cui vivete. Il livello dei vostri mari, allo stesso modo, si sono alzati o abbassati all'improvviso, decimando o addirittura inviottendo intere popolazioni in alcune nazioni. Vivete in un mondo instabile, e molti di voi sono a un passo dal disastro. Madre Terra intende modificare queste impostazioni, ma per farlo chiede il vostro impegno nel comprendere consapevolmente il senso e l'importanza che ricopre il mondo in cui vivete, per ogni singolo essere. Lo scopo principale consiste nel sostenere la vostra esperienza nella coscienza limitata, un processo, che dura ormai da 13.000 anni. Questo esperimento è giunto al termine, ci troviamo ora nel punto in cui dovrete effettuare una rapida transizione per ritornare a esseri pienamente coscienti, come una volta eravate. Per accompagnarvi a quello che noi chiamiamo il punto di demarcazione, il Cielo ha inviato speciali decreti a chi veglia su ciascuno di voi, per dare inizio alla serie di cambiamenti predisposte per il vostro risveglio e da prepararvi per acquisire nuovamente le responsabilità della piena coscienza. Questo processo ha avuto inizio con una serie di eventi quasi catastrofici, che hanno colpito la vostra realtà nel secolo scorso. Grandi guerre, carestie, disastri naturali e profonde crisi di tipo economico e sociale. Questi erano i campanelli di allarme che dovevano avvisarvi di quello che stava per accadere il nostro arrivo, in qualità di portatori del primo contatto di massa. Questo evento è uno degli ultimi segni previsti per la vostra realtà. Comprendiamo la grande apprensione, che ha da sempre accompagnato questo evento, il Cielo vi sta offrendo un'esperienza veramente incredibile. Siete passati da una situazione, che sembrava essere abbastanza stabile, per ritrovarvi in una fase in cui volatilità e violenza hanno vissuto una rapida escalation fino ad oggi ove state accumulando livelli di ansia, che stanno diventando insostenibili. Il Cielo vi ha voluto qui per prepararvi a quello che presto proverete un'euforia così intensa, che può essere paragonata ad un sogno. Questa è la sensazione meravigliosa, che sta per raggiungervi, avvicinandosi con la progressione di un treno ad alta velocità. Gli oscuri comprendono che questo momento è vicino, e che per loro sarà veramente la fine. Eppure, così come voi, anche gli oscuri esitano nel voler sperimentare tutto questo. La coscienza limitata è veramente strana. Voi tutti sembrate dare il benvenuto a quello che verrà, ma notiamo una certa resistenza, che è illogica e sostenuta dalla paura verso l'ignoto. Lo osserviamo nelle frustrazioni degli operatori di luce e nella persistente arroganza della cabala oscura. Lasciarsi andare risulta per voi difficile. Tuttavia, il tempo per farlo è davanti a voi. Lasciatevi andare, abbiate fiducia in quello che il Cielo e il Disegno Divino hanno in serbo per voi. Parte di questo consisterà nel farvi scoprire che non siete soli. In gran numero, dalle vostre famiglie spirituali e dalle famiglie spaziali, sono venuti per abbracciarvi e per accompagnarvi verso il vostro destino. Questo destino comprende la custodia di un nuovo sistema solare e di una nuova nazione stellare. È ragionevole per voi pensare che queste responsabilità faranno parte di un futuro lontano, ma non è così. Quello che vi stiamo descrivendo si avvicina. Se vi sentite in trepidazione pensando a questa prospettiva, vi consigliamo di pensare che questo sarà il mondo dei vostri figli e nipoti, poi semplicemente immaginatevi di essere lì con loro. Il mondo, che vi circonda non è semplicemente colpito da calamità, ma rappresenta la parte finale del gioco di questa realtà, prima che abbia inizio la piena transizione in quella nuova realtà, che presto conoscerete. Nel nostro mondo vedrete che le cose sono facili da imparare e da approfondire. La Federazione Galattica è un'associazione estesa in tutta la galassia, che osserva e assiste i cambiamenti del vostro sistema solare. Una volta che questa trasformazione sarà completata diventerete una parte vitale di questa organizzazione. Molte conferenze richiederanno la vostra esperienza e il vostro talento, ammiriamo con entusiasmo il vostro impegno nell'assistere il percorso della luce in ogni parte della vostra fisicità. Le problematiche attuali comprendono l'immensa fuoriuscita di petrolio nel Mar dei Carabbi che, insieme ad altre di minore entità in altri oceani, stanno minacciano l'ecosistema di madre Terra. Queste catastrofi, provocate dall'uomo, sono solo alcuni dei molti casi che, oltre a mettere in pericolo le biodiversità, stanno contaminando ogni forma di vita terrestre. Questa diversità è stata il segno distintivo della vita sulla Terra fin dal suo inizio. L'attuale situazione biologica è caratterizzata da un calo evidente di queste biodiversità, questi parametri rappresentano il punto in cui una specie dominante ne sostituisce un'altra. Ciò che rende unico questo momento è che coinvolge le specie, che si stanno spostando in uno stato di coscienza molto più alto. Il verificarsi di questa condizione favorirà l'inizio di una realtà completamente nuova, che trasformerà la suddivisione attuale, con un regno di superficie 3D e un mondo interiore 5D, in un mondo unificato 5D. Questo nuovo mondo sarà la base per la creazione di una nuova nazione stellare. In ogni parte del vostro sistema solare questa trasformazione sta procedendo senza sosta. Marte continua a guidare il cammino, la sua sottile atmosfera comincia ad addensarsi formando le prime e semplici condizioni, che iniziano a renderlo simile a Grande Pianeta. Anche Venere sta mostrando segni di vita. Molti dei vostri astronomi possono osservare come su Venere sia presente dell'acqua, appena sotto la superficie, e come la sua atmosfera surriscaldata e acida stia subendo alcuni cambiamenti. sta per iniziare il processo di ritorno al suo stato originale, che rappresentava la copia gemella di Madre Terra. Mercurio è ora interessato da numerose attività vulcaniche, e questo preannuncia il ritorno di uno dei mondi più sorprendenti. I vostri astronomi lo avevano inizialmente chiamato Vulcano già negli anni 1840 e 1850. Questo mondo perduto è pronto a prendere il suo posto, diventando il mondo più interno del Sistema Solare. Cambiamenti di ogni tipo sono stati notati anche nella fascia di asteroidi in prossimità di Marte. Un ex pianeta, che una volta si chiamava Maldek, e che noi identifichiamo come Pax, sta cominciando a far notare la sua presenza. A seguito di strani eventi gravitazionali molti astronomi cominciano a chiedersi cosa stia succedendo. In effetti, la sua fascia di asteroidi sembra essere in una fase di auto-allineamento. Possiamo affermare che queste stranezze sono solo i primi provvedimenti presi dal vostro Elohim locale, che sta predisponendo la ricostituzione di un nuovo pianeta. Sarà il più grande dei vostri mondi da qua e contribuirà allo speciale equilibrio di cui godeva il vostro Sistema Solare. È proprio questo equilibrio, che ha condotto qui Madre Terra, 5 miliardi di anni fa. Ed è anche quello che ha tratto i nostri coloni lemuriani sulla Terra circa 900mila anni fa. Una nuova età dell'Oro è in arrivo. Oggi abbiamo parlato degli sviluppi che vi stanno accompagnando verso molte trasformazioni e delle numerose situazioni urgenti che necessitano una soluzione. Il momento per la nostra introduzione formale si avvicina. State vivendo un periodo di cambiamenti epocali e in cui potrete riscoprire chi veramente siete. Sappiate, carissimi, nel profondo del vostro cuore, che illimitate risorse e l'infinita prosperità del cielo sono davvero vostre. Così sia. Selamat Gayun. Selamat Yah, in Siriano siate uno nell'amore, siate nella gioia. Traduzione Gualtiero Costanza 2003